Quando funziona, mi avvicino un po', dicendo buonasera a tutti e grazie di essere venuti qui questa sera alla presentazione di quello che per il mondo di Alfa Romeo è un sogno, per quello che il mondo di Alfa Romeo è passione e cuore. Un'auto che racchiude le sportività, un'auto che racchiude in sé tutto quello che è lo spirito sportivo, lo spirito italiano che a mio avviso solo Alfa Romeo sa esprimere. Da poco abbiamo lanciato Giulia, che ha fatto molto parlare di sé, una berlina, questa decisamente con qualche cavallo di turismo è necessaria e questa sera nei nostri salon ne abbiamo Steglia, una macchina molto particolare perché non è una sportiva ma è tutte e due le cose insieme. non voglio dilungarmi più di tanto perché questa macchina dal nome parla da sola, quindi chiederei dov'è la mia aiutante? Eccola, un applauso alla aiutante signore. Signore e signori, è fissato il microfono, abbiamo il piacere di presentarvi Alfa Romeo Staglio. Eccoci qua. Grazie. Grazie a tutti.